Ciao a tutti ragazzi, sono qui oggi con un vino dolce, sardo, che si chiama Oirad e viene prodotto dall'azienda Ferruccio Deiana, siamo in Sardegna, in provincia di Cagliari. Perché ho scelto questo vino? Perché ho deciso di parlarvi della struttura, del corpo del vino. Molte volte noi utilizziamo certi termini per descrivere appunto quello che abbiamo nel calice. Diciamo che un vino può essere strutturato di corpo robusto, debole, leggero, slanciato, ma che cos'è il corpo di un vino? E' quello che resta quando si va a togliere l'acqua, l'alcol etilico e le sostanze volatili, che non è altro che l'estratto secco. Quello che resta, quindi zuccheri, i sali minerali, gli acidi fissi, la glicerina, le gomme, quello che resta. Ed è quello che dà l'essenza al vino, è l'estratto proprio. Quello che dà è il sapore, perché sennò di acqua e alcol non saprebbe di molto. E perché ho scelto un vino dolce? Perché naturalmente già all'esame visivo ci dà la possibilità di capire subito la consistenza di un vino. E la consistenza è quello che noi vediamo ed è il primo impatto che poi ci farà capire quant'è la struttura. E andrei subito ad assaggiarlo. Perché? Perché vi mostro la consistenza di questo vino. Lo faccio rotteare e come vedete, anche se lo faccio rotteare più volto, più forte, si ferma quasi subito. Non è che scivola tante volte nel bicchiere. E in più, non so se si riescono a vedere bene. Eccole qui, forse. Qui vedete che ci sono le lacrime. Queste qui sono le lacrime che scendono molto lentamente lungo la parete del calice. e sono molto vicine l'una alle altre. Gli archetti che sono in mezzo sono molto stretti. Questo qui è il primo esame, il primo impatto che ci fa capire che un vino avrà una buona consistenza. Se invece le lacrime scendono velocemente e gli archetti sono molto lontani, distanziati, in quel caso ci troveremo davanti, non un difetto naturalmente, ma un vino beverino, da bere giovane, con molto più slanciato, molto più dinamico, ma magari che non è masticabile. Mentre altri vini, soprattutto i bianchi e anche i rossi naturalmente, che fanno maturazioni lunghe, il legno magari, avranno un estratto secco maggiore. Infatti, per esempio, i vini rossi vanno dai 20 ai 30 grammi litro di estratto secco e ci daranno la percezione quasi di masticarli. E succede naturalmente ancora di più con i vini dolci, i vini licuorosi o i vini muffati, perché hanno delle sostanze in più. Quindi questo vino qua, prima di andarlo a degustare, volevo dirvi ancora una cosa, ha un profumo meraviglioso, che ci sono anche degli altri fattori che ci danno una percezione maggiore del corpo, che sono appunto gli zuccheri, la morbidezza, che è composta dai polialcoli, quindi la sensazione di avvolgenza, l'alcol pur essendo volatile, perché ovviamente è volatile, ma un grado alcolico maggiore ci darà una percezione di strutture di corpo più abbondante. I tannini anche sono l'opposto della morbidezza, perché hanno un effetto ruvido e di astringenza, li troviamo principalmente nei vini rossi, però anche quelli vanno ad arricchire il corpo. E più un'altra cosa, non da sottovalutare, perché un vino assaggiato a elevate temperature, lo stesso vino anche assaggiato ad elevate temperature, che vanno a mettere in evidenza le morbidezze, quindi alcol, i polialcoli e gli zuccheri, ci daranno una struttura maggiore. Mentre al contrario, se andiamo a servire lo stesso vino, ma più freddo, allora in quel caso invece avremo la percezione delle durezze, quindi l'acidità, la sapidità, che saranno molto più forti, e nei vini rossi anche i tannini. Quindi si va anche con la temperatura, si può aumentare la percezione del corpo o andarla a diminuire. Adesso andiamo ad assaggiare questo meraviglioso vino dolce, che come vedete ha un bellissimo color ambra, veramente bello, come detto prima, buonissima consistenza, quindi ci aspettiamo un corpo che magari non sarà proprio robusto, però al livello del masticabile, per intenderci, al naso ha questi profumi naturalmente dolci, di miele, frutta secca, dattero, il fico disidratato, e poi ha anche qualcosa di resinoso, qualche agrume, scorza d'agrume, ma non troppo dolce, è molto invitante, molto invitante all'assaggio, è molto invitante anche ad annusarlo, a continuare ad annusarlo. Ci sono anche dei fiori, fiori appassiti. Andiamo ad assaggiarlo. Sicuramente c'è un'ottima corrispondenza. E abbiamo la percezione della confettura del bicocca, dolce, ma che poi, per fortuna, rivela una buona acidità, che ci va a pulire il palato. Ha un grado alcolico di 14 gradi, quindi non è, si sente, si percepisce l'alcol, soprattutto se lo abbiamo lasciato un po' nel calice, quindi andiamo ad aumentare questa sensazione di dolce, e di alcol, però devo dire che, nonostante ciò, lascia la bocca pulita, e ha un finale quasi sapido. Molto corrispondente, io lo abbinerei con vino, questo qui è un vino da meditazione, ma se lo si vuole abbinare, naturalmente ci sono i dolci secchi, con la frutta secca, oppure penso anche a dei formaggi erborinati, ci stanno molto bene. Se vogliamo andare a un abbinamento tipico della zona, possiamo pensare a delle Seadas, questo formaggio caprino, con le scorze di lime, a volte nella pasta di semola, fritte col miele, una cosa molto dietetica, però vanno a riprendere tante percezioni gustolfattive, che ritroviamo nel calice, quindi potrebbe essere molto piacevole, o se no pasticceria secca, penso a una sbrisolona, come esempio. Quindi o da solo, questo qui è un vino che sta bene da solo, è del 2015, o i rad, in realtà è il nome al contrario, si legge Dario, ed è il nome del figlio del fondatore dell'azienda, che è anche enologo, e lavora e collabora naturalmente con il padre. L'azienda Ferruccio Deiana si trova appunto in una località, di cui mi sono scritto il nome, perché se no non me lo ricorderai, che ha sede a Su Leunaxi, spero di averlo detto giusto, si trova nelle campagne di Settimo San Pietro, in provincia di Cagliari. E' un'azienda abbastanza grande, che ha 100 ettari, i vigneti sono stati molto selezionati, sono praticamente, la maggior parte sono autoctoni sardi, quindi troviamo il Vermentino, il Cannonau, Monica, la Barbera Sarda, il Carignano, il Nasco, con cui viene fatto questo vino, e anche la Malvasia e il Moscato. E hanno deciso di produrre, su determinati terreni, certi tipi di vitigni, quindi c'è stato fatto uno studio, davvero approfondito, sui terreni, per scegliere su quali andare a piantare, non so, i vigneti a baccarosso, quelli bianchi, in base ai terreni argillosi, oppure sabbiosi. E' un'azienda che sta molto attenta, non solo in cantina, ma soprattutto in vigna, perché sappiamo che comunque il vino, si fa in vigna, ed è molto attaccata alle tradizioni, è sicuramente un posto da visitare, si trovano appunto, provincia di Cagliari, quindi sud della Sardegna, un luogo meraviglioso, che spero un giorno di andare a visitare. Io vi ringrazio per l'attenzione, e ci vediamo al prossimo incontro, magari in una piscina al fresco, chissà, chissà. Ciao!